E con le news andiamo anche oltreoceano, signori, perché abbiamo un'importante notizia che riguarda Gainet Paltrow, che è sotto accusa per un incidente vecchio, un incidente sugli sci avvenuto nel 2016, quindi insomma sono passati una fracca di anni, e un pensionato, pensate che le chiede un maxi risarcimento per lesioni. Ci è voluto tanto per lui, per capirlo, che avrebbe potuto approfittare della situazione per poter prendere un sacco di grana padano. Ebbene, l'attrice imprenditrice sta affrontando in questi giorni un processo che la vede imputata e tutto a causa di questo incidente avvenuto appunto anni fa, nel corso del quale un uomo avrebbe riportato per colpa sua lesioni abbastanza serie. È stato chiesto un maxi risarcimento, quindi siamo curiosi anche di sapere quant'è la cifra. Il premio Oscar come migliore attrice è stata chiamata a presenziare ad un'udienza in tribunale a Park City, nello Utah. Qui, è accusata di aver provocato lesioni ad un uomo di allora 70 anni, l'ottico in pensione Terry Sanderson. I fatti, si apprende dai medi americani, risalgono a febbraio 2016. Gwyneth Paltrow si trovava nella cittadina che ospita ogni anno il Sundance Film Festival e, stando alle accuse, a causa di un condotta scellerata sugli scissi è scontrata con il pensionato. Ad avere la peggio è stato proprio lui. Ha riportato la rottura di alcune costole e lesioni cerebrali. Oltre all'infortunio fisico, ha addotto anche stress emotivo e per questo la sua iniziale richiesta di risarcimento è stata enorme. Come riporta l'Associated Press, Terry Sanderson le ha fatto causa per 3 milioni di dollari, cifra poi ridotta però a 300 mila dollari. A perorare la sua versione è stato chiamato a testimoniare l'amico Craig Ramon, secondo il quale la colpa dell'incidente sarebbe stata solo di Gwyneth Paltrow. Dal canto suo, l'attrice ha ammesso che ci sia stato uno scontro sette anni fa a Park City, ma sostiene che la colpa dell'incidente sia di Sanderson. Inoltre, viene riportato che alcuni membri del gruppo della Paltrow dopo lo schianto hanno chiesto all'uomo come si sentisse e questo avrebbe riferito di stare bene. Anche per questo, Gwyneth Paltrow ha presentato una controquerela, chiedendo il pagamento delle spese legali e un singolo dollaro per i danni. Secondo lei, il pensionato oltre ad aver causato l'incidente ha esagerato la natura delle lesioni per sfruttare la sua fama e ricchezza. Nonostante la fortunata carriera, Gwyneth Paltrow non è uno dei nomi più amati del mondo dello spettacolo. È stata spesso al centro di controversie, soprattutto per il suo sostegno alla medicina alternativa e pratiche pseudoscientifiche promosse tramite la sua azienda Goop la stessa con al quale ha commercializzato prodotti come «La candela al profumo della mia vagina» e molto altro. Per seguire la sua nuova vocazione imprenditoriale, ha di fatto messo da parte la carriera da attrice. Salita alla ribalta negli anni 90, ha raggiunto l'apice del successo nel 1999 grazie al premio Oscar e al Golden Globe per «Shakespeare in Love». È stata anche uno dei volti fissi delle prime fasi del Marvel Cinematic Universe, il franchise di cinecomic nel quale è interpretato per numerosi film Pepper Potts, collaboratrice e poi fidanzata di Tony Stark a Iron Man, interpretato da Robert Downey Jr. L'ultimo film risale al 2019 ed è stato Avengers Endgame.